musica 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 auguri auguri tanta felicità ciao allora io non ce la faccio più c'è un clima bellissimo c'è un bel clima però mariana per favore la campana tibetana ciao ginevra auguri sei falsa ilary ilary per favore abbiamo un bel rapporto con tutti vini alessia me cari ilary ilary sempre stupenda stasera soprattutto ti abbiamo visto dal tanti auguri stasera pizza party hawaian polo no pamela non c'è perchè andata via col tazzo apri apri pamela siamo in diretta auguri comunque auguri tagliamo tanti auguri per il tuo matrimonio andiamo dario dario ciao ciao ginevra tanti auguri camera siamo al gsvip ma rosanna rosanna auguri dalla tua fidanzata auguri dal tuo cagnolino allora che gli diciamo come chi sono mi sono la matrina di gb ok ok allora aspetti mettiamoci d'accordo ma come si fa a sapere quando comincia ma chi fa play ok come mo tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a ginevra tanti auguri a te ciao splendida ciao 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 ma siamo sicuri che ha registrato e infari vedi quella cosa che ho scritto video ma siamo sicuri che ha registrato dove tu vedi video e ti dice auguri ginevra ma ora no 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 te lo dicono ma ora andiamo e questo è il genio della classe auguri gini ma siamo sicuri che ha registrato ma c'è auguri siamo qui al grande fratello tutti e tre e devo dire che ginevra è una ginevra ginevra è una buona compagna però ho deciso di nominare menna menna e dario dario e menna siete stati nominati auguri auguri zinni buona sera stanno grande fratello no questi sono finti sono in si ma che dobbiamo fare? se lo tocchi prendi il cancro ma sta registrando? cioè come capisci che sta registrando? no infatti ma ieri il generale ho venduto la cocaina per caso ma perchè stiamo qua? io sono venuto per mangiare sinceramente io sto aspettando il generale che mi porta verba allora ho detto la cocaina ma infatti si sente un certo odore sai vabbè ma dobbiamo fare finta di volerla bene ma hai trattato la macchina? sei un grande no è un'amica che mi ha pescato i vestiti i tacchi il rossetto ma di che stai parlando? le cartine le cartine il primo anno possibile le vorrei rubare questa cabina sinceramente finito non compreanno a te 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 vabbè no le cose belle di ginevra la casa la mamma la mamma che ci dà il cibo le cose brutte e il fratello il fratello ovviamente le quali ne ha due il fratello non quello in cabina ma possiamo uscire? no io ho fame infatti stanno buttando la roba a pensieri ciao Ginevra ciao Ginevra siamo ancora qui per farti un altro augurio per un magico natale no un gatto non sta bene un gatto sul letto e un uomo nudo ad aspettare nudo nudo era un zullo una volta che ci penso vengono i brividi buongiorno 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 non voglio farti pensare più a quell'uomo so che ti ha fatto tanto male soffrire non ci voglio credere non ci voglio credere cioè Alessia Macari questi praticamente sono gli auguri di Monica per il tuo compleanno auguri ancora il degrado Hilary Hilary c'è un bel clima però Mariana però fai sempre questo vabbè ciao Ginevra andiamo a mangiarci ho una sorpresa per te andiamo siamo tornati e dopo aver fatto eliminare Dario dopo la nomination siamo tornati qui per fare una nuova nomination Antonio sei pronto? si chi vuoi nominare? menna menna tanti auguri Ginevra Ginevra a piaccio è bello no stasera sei bellissima di una maessa così bella finalmente poi vabbè ieri non ho partecipato alla sorpresa però ho dato il mio contributo anche Biaggi si si io ho dato il mio contributo accompagnato Roberto questa volta non si scordava le candeline ho accompagnato Roberto ho fatto una ancora tanti auguri ancora tanti auguri chi nominiamo? chi nominiamo? io nomino Rosanna io nomino Rosanna che ha una testa di me allora io ero aperto con un po' la mamma di adesso è già un po' la mamma di adesso beh innanzitutto ci vorrebbe come camera caffè il caffè no? e niente che volevo dire Ginevra mi presti adesso ho il tuo giacchino nero siamo pronti? cazzona auguri Ginevra hai visto finalmente anche tu hai avuto i tuoi 18 anni speriamo che siano ancora tanti e speriamo che siano sempre belli insieme ai tuoi amici e a tutte le persone che ti vogliono bene ti voglio bene ciao ti farei ti farei altre 100 volte se ci fosse la possibilità di vivere ancora rinascerei altre 100 volte la stessa vita per averti auguri tanti tanti auguri che cosa succede vedi 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 Grazie a tutti